Musica Siamo i costruttori delle maschere isolate del Carnevale di Via Reggio La maschera isolata è il primo passo per approdare un futuro alla realizzazione dei grandi carri amicolici del Carnevale, famosi tutt'abbiamo La nostra categoria è composta prevalentemente da giovani è caratterizzata da una grande passione e uno spirito di sacrificio L'obiettivo che vogliamo raggiungere insieme a tutti voi è quello di trasformare questo lavoro in una professione con basi sicure e certe per il nostro futuro Per farlo abbiamo bisogno del vostro supporto e sostegno La maschera nasce da un gioco di parole e abbracci tutti i temi quelli di attualità ma anche la satira politica Ben presto l'idea si trasforma in disegno che noi chiamiamo bozzetto Dal bozzetto ecco che con lavoro e dedizione il soggetto piano piano diventa reale e concreto grazie alla fase della modellatura in creta Una volta terminata la creazione in grida realizziamo uno stampo in gesso nel quale poi pigiiamo la carta e diamo vita al mascherino La carta pesta è l'elemento simbolo del nostro carnevale e permette di realizzare sogni ed opere d'arte nel rispetto dell'ambiente La fase di assemblaggio di colore permettono infine di ottenere il risultato raggiunto A questo punto siamo pronti per sfidare durante i corsi mascherati Con il vostro contributo puntiamo a creare una categoria nel vero senso della parola Grazie a voi potremo avere infatti i mezzi necessari delle certezze economiche per arricchire i nostri lavori e renderli ancora più belli e spettacolari Investite nelle idee, nell'arte, nella cultura e nei giovani Date spazio alla creatività Sostenete oggi i caristi del domani